Ad uno ad uno purtroppo muoiono i partigiani della grande impresa della resistenza contro il fascismo e l'occupazione nazista. Se ne va Umberto Grilli, lunghette, che non aderisce alla Repubblica di Salò, fugge in provincia di Como ed entra nella 52esima Brigata Garibaldi a Lanzo di Intelvi. Ci lascia a suo emo Alfieri il partigiano Russia di Parma, che fino all'ultimo mantiene quell'egame forte tra i valori della resistenza e del lavoro. Ci salutano in silenzio la staffetta Pierina Tavani di Caosso, nome di Battaglia Stella, che mai abbandona la profonda umanità davanti alla follia del nuovo corso del razzismo, il comandante Aldo Sacchetti di Carrara, uno degli uomini della liberazione di Cuneo, e ancora Ercolina Gibin di Novara, Danilo Filius Bob di Potto, Val Travaglia, Duiglio Paesani di Rimini, Ezio Lavezzi di Imperia, Ugo Berga della Valsusa, Pietro Beccuti di Asti, Giovanni Calisto Zanò di Cuneo, Nerina, Lanzoni, Alfonso Mersi, Nino di Reggio Emilia. L'ultimo saluto alla partigiana Olga Bernardi di Castelfranco è sulle note di Bella Ciao. La stessa canzone è che si porta via Enzo Biagi, Giovanni Pescio, Norina Brambilla, Erminio Lissi, Franco Pasquet e centinaia e centinaia di altri partigiani. Se ne vanno senza toppe celebrazioni, come persone normali, umidi, semplici, protagonisti della grande stagione delle scelte e lasciano un vuoto che è difficile colmare così in poco tempo e con loro possono svanire le storie dell'Italia partigiana. Il progetto di Italia Liberata, storie partigiane parte proprio da qui, dalla fine anagrafica di una generazione che in soli 20 mesi, dall'8 settembre del 43 al 25 aprile del 45 e per molti di loro anche molto prima, riprende le redini del paese e lo conduce attraverso la Costituzione verso la democrazia, dopo lunghi anni governati dal regime fascista e dalle barbarie dell'orrore del nazismo. Allora dovevo narrare la vita di uomini e di donne che con le loro azioni coraggiose hanno cambiato il corso della storia. Ci dicono spesso che bisogna voltare pagina, ma almeno bisogna conoscerla e leggerla e allora leggiamola fino in fondo, senza perdere neppure una parola.